amici di geologia pop buona pasqua a tutti per questa giornata speciale volevo farvi vedere un tipico esempio di roccia molto particolare una roccia del napoletano e la particolarità di questa roccia che potete vedere qui circolare ok la particolarità sta all'interno quindi dobbiamo sezionare questa particolare roccia per vedere cosa contiene contiene dei minerali speciali speciali ora vi faccio vedere ecco la sezione ecco qua vedete c'è una pasta di fondo morbida all'interno con dei minerali di salamite mortazzellite formagite vedete riuscite a vedere riuscite a vedere mette a fuoco ecco guardate questo bel colore rossastro poi vedete anche ci sono delle come dire dei pori al suo interno una roccia abbastanza porosa e la cosa fantastica ha qua c'è anche la uovite vedete parti bianche parti gialle ecco altri particolari minerali questa è una roccia che insomma si forma a 180 200 gradi ecco e estremamente proteica ragazzi questo è un bellissimo casatillo napolitano vi faccio i miei auguri con questo e dal momento che geologia pop quest'anno festeggia un anno proprio a pasqua non potevamo con la mia mamma la mia famiglia non potevamo non fare una cosa del genere bel casatillo pop auguri a gelodia pop ciao